Fino al 5 maggio a Teramo si svolgerà il Festival delle Virtue dell'Eno Gastronomia Teramana, evento organizzato dall'assessorato agli eventi del comune il cui obiettivo è quello di promuovere le numerose tipicità locali, in particolar modo il piatto principe del primo maggio per i terramani, le virtù, l'unico da aver meritato un rigido disciplinare realizzato da un team di esperti di storia, enogastronomia e sociologia e riconosciuto anche a livello ministeriale. Una pietanza che però negli anni ha suscitato anche diverse polemiche, l'ultima quella fatta da alcuni ristoratori storici a cui non è piaciuta la scelta dell'amministrazione e cioè di far promuovere le virtù anche a chi non rispetta il rigido disciplinare. Abbiamo deciso di offrire ai visitatori che in questi giorni saranno a Teramo i piatti della tradizione, chiaramente le virtù, il periodo migliore in assoluto con il primo maggio, ma ci sono diversi ristoratori che già dal 25 aprile le hanno offerte all'interno dei propri ristoranti. Un argomento che comunque ha suscitato alcune polemiche da parte dei ristoratori storici, perché dicono che bisogna fare attenzione altrimenti si trasforma in un vero e proprio minestrone? Assolutamente sì, per questo c'è anche un disciplinare che a mio parere andrebbe seguito, quindi l'attenzione ci deve essere chiaramente su questo tema, perché la protezione comunque dei piatti e della tradizione è un tema molto molto importante. Non si deve mai arrivare chiaramente a uno scontro, perché poi dopo lo scontro è quello che fa male soprattutto alla città. Quindi bisognerebbe lavorare su questi temi precedentemente a questi periodi per poi far godere di questi piatti tutti senza che ci siano grosse polemiche, grossi problemi. Il disciplinare è un fattore molto molto importante, andrebbe seguito certamente, quindi quelli che lo fanno sicuramente offrono delle virtù più autentiche rispetto agli altri. Grazie a tutti.